. Up San Pietroburgo, il programma delle semifinali Fabio Fognini insegue, sul veloce di San Pietroburgo, un importante finale. Si gioca sul campo centrale, non prima delle 15.30. . L'incrocio con Bautista Agut, prima testa di serie, ha il sapore dell'atto ultimo, data la forza dei contendenti. Sono ben 8 i precedenti, 6 di stampo tricolore. . Agstad, in stagione, 63 al terzo Fognini. Treono il bilancio su superficie rapida, con un passaggio proprio qui, al ST Petersburg Open, nel 2012. 64-76, vessillo azzurro. Fognini approda il match dopo il sigillo con Beranchis, affermazione ampia. . Attenzione a Bautista, un ciclone contro Iki. Nel bagaglio dello spagnolo, anche il titolo a Winston-Salem e i quarti a Montreal, è temibile. . In precedenza, la prima semifinale, meno nobile. Zumur è da diverse settimane al vertice, gioca bene, difficilmente concede qualcosa. . Finale a Winston-Salem con il citato Bautista, semifinale allo Scabos, è in costante ascesa. Qui fiuta il colpo grosso, dopo la vittoria con Broading 3 ai quarti. . Deve battere il teutonico Struff, reduce dal colpaccio con Jot Zunga. Secondo squillo al terzo, dopo quello, in avvio di torneo, con Coric. Nel mezzo, W con Fabiano. Struff non parte in difetto, difficile il pronostico. . Un unico duello tra i due, nel Challenger di Alphen del 2016. Ritiro di Zumur nel corso del terzo set, un'altra storia. . . . . . www.22.00pm. SF Damir Dzumur vs. 8, Jan Lennard Stroof. Not before 3 e 30 pm. SF, 1, Roberto Bautista Gut vs., 3, Fabio Fognini.